Pisa kebab da canaloglu tutto buono Uuuuuh Uuuh Faccio il piano che ti do un pugno Muto devi stare Io t'avviso Taglio la gola Finalmente Animali Animali E' tornato il pacco opening Se ne volete una settimana Come sempre spaccate Il tasto dei miei piace E facciamolo volare alle stelle Ma godetevi soprattutto Cosa vi voglio portare nei prossimi video E i giocatori Che mi sono ritrovato nella rosa Buona visione Minga è un po' che non giochiamo a fifa eh World m 69 non ho parole e badger ragazzi ragazzi sono nieve Bentornati in questo nuovo video Oggi siamo tornati finalmente su fifa Con questa grandissima sorpresa Che ovviamente come ben sapete Collaboro con EA E appunto visto che per un mese passano Non ho parlato FIFA C'erano un po' di giocatori arretrati Questi per l'appunto sono tutti i giocatori Che sono appunto stati i giocatori della settimana Mi hanno fatto appunto scegliere 4 Toti Che più mi piacevano Da voi potervi portare nei video Cioè è un casino Non ho mai visto tanti giocatori insieme nel mio club Questo gioco servirà appunto magari a fare Dei search and discard Che torneranno finalmente come vi avevo promesso Potremo usare tutti questi giocatori Per appunto la squadra alfabeto Per la rotta di Joe 1 L'importante è che appunto Ci divertiamo a vedere queste veste in azione In tutte le serie che appunto Dobbiamo ricominciare E soprattutto riprendere Quindi vorrei che appunto vi sbizzariste voi Nei commenti per farmi delle rose Appunto per la squadra alfabeto Vorrei che mi facciate con una stessa lettera Mi scrivete anche il modulo E appunto i giocatori con quella lettera lì Oppure mi scrivete Nella prossima divisione Devi portare questa squadra E poi mi fate una squadra random Che ovviamente abbia 100 d'intesa E ve lo porterò Quest'oggi sinceramente Non so neanch'io che video fare Allora io Premo un tasto Sperando che non sia quello sbagliato Allora Ok no non era questo il tasto giusto Non scartiamo niente Ok Inviamo intanto Che ansia madonna Toccare tutti quei giocatori con un tasto Potevo cancellarli tutti Cosa vuoi lasciare una lista trasferimenti? Ah roba che avevo venduto l'altra volta a caso Oggi ci andremo a fare un mini pack open Un pack open sperando di trovare comunque qualcosa Ah che bello Ci sono comunque già 10 pacchetti che non sono male Io andrei a vedere cosa Andiamo a trovare Tra l'altro molti di voi Si saranno chiesti Ma adesso visto che in camera non c'hai più il letto Cioè che cosa? Grande Danny Nel cestino Ovviamente a parte di lanciare i piatti Che tra l'altro ogni fiera mi regalate e mi portate Che cosa andremo a fare di pazzo? Allora Probabilmente ogni video O comunque ogni tot episodi Io vi dirò che se raggiungeremo un tot di mi piace Io prenderò qualcosa in più per la camera Per il divertimento Per fare le esultanze e divertirsi Io come primo oggetto Avevo pensato di comprare la piscina gonfiabile Con le palline e lanciarci dentro ogni gollo Oppure fare cose un po' più fighe Nel cestino Quindi fatemi sapere se l'idea della piscinetta con le palline vi piace Così se questo video raggiunge il 50.000 mi piace La compro per voi Per le prossime esultanze Vai la tattica talpa Ci farà trovare un giocatore if Nachos Labri! Mi porti un nacho? E niente Tu sopeva quindi C'è rioro raro Oh signor Ragazzi la casette Il gangster di turno francese Che ci spara Lo svizio Cazzo che fortuna in questo pack opening Proprio un degrado Anzi se l'ho deciso del cinese Un delgado Pisa kebab Da canaloglu Tutto buono Tutte le volte che andiamo a spaghettare I pacchetti limitati Di limitato non c'è niente C'è solo la possibilità di trovare giocatori forno Evviva! Abbiamo trovato quello col Parkinson Tremolina Austin Powers Col pisello d'oro E quello col nido di rondini in testa Weng Weiyo Che ragazzi è napoletano? No è vero È giapponese Gritzman La vuoi un po' di Schweppes? Solo io e te? Sì No E che ragazzi abbiamo trovato l'amante del sushi Questo qua è ai livelli di Stefanino Questo c'ha gli occhiai da solo incorporati Ma che cazzo c'ha questo? Questo non sei di mente gli occhiai C'ha già la forma Bello Mancano quattro pacchetti Vabbè ma come sempre tanto prendiamo i crediti per prenderci altri giocatori Quando manca Mancano ma in realtà non so se ne mancheranno molti dopo quelli che mi ha lasciato oggi Compagno di strada Se non vanno niente di scarto Vabbè 19.000 a crediti dai Ci sta Io bea vuoi Tu rosa Ecco abbiamo ritrovato il tizio che se lo gira al contrario sarebbe più giusto C'ha la gravità al contrario Crescono i capelli giù e Cazzo se lo copalo oggi Questo sapete come spazio via le foglie d'autunno Cosa c'ha il cognome così lungo che non ci sta E sembra un codice fiscale C-H-R-I-S-T-O Ho detto Cristo Senza volerlo Il signore è la mia salvezza E con lui non tremo più Perché nel prossimo pacchetto Ci sta Ronaldino Roda D'ha detto Siamo lì Uguale anche di colore proprio A casa mia troviam via Ciao fratello William è la FIFA 14 che ha sti capelli Ma che li sono diventati L'ha incollati col Bostick Sempre uguali Che belli questi pacchetti limitati Non vedevo l'ora di aprirli Mannaggia che sfortuna Che schifo E' un bolassio Bola si bolasso Io me ne vado a questo pacchepinning Taccituba Ragazzi ma questo è nato in una pressa C'è gli occhi che sono tipo qua qua Attaccati Mica lo chiamavano occhio di falco Rodrigo Caio detto occhio di falco ragazzi Io confido nell'ultimo pacchetto Ci credo Nell'ultimo pacchetto C'è di tutto E usiamo La tattica sparta Ma puoi darmi pato Che l'unica cosa che ci posso fare È metterlo lì come soprammobile Questo pacchetto non è più disponibile E vabbè Andiamo ad aprire i pacchetti normali Bella merda Ho messo la diarrea Ma questo qua vince il business world record Per il più scuro Che stanno a giocare Che in finalissima C'è Eder e il cioccolato fondente Oh che bello Ciao Mai più Ah E sti gazzi Ma io volevo solo la porchetta Tranquillo La troverai fuori dal club C'è cavolo È appena passato San Valentino Ma Hai poveri Cristi single Non glielo fai trovare uno forte C'hai capito già poverini Single Magari finito in zonatino Gli fai neanche trovo Uno Ti fai infame Per te solo le lame Sta faccia non la faccio neanche se voglio C'è Come può se Cazzo Vabbè Oddio non vedo più niente Questo è Quanto vino ha bevuto Cioè lui non è fatto del 70% d'acqua Lui va del 40% d'acqua E 30% vino probabilmente Guarda come congolo Guarda come congolo Balla il twist Con le gambe d'angolo E anche quest'oggi Una bella scorpacciata di contratti E bagage Almeno un pacchetto gra Mille crediti gratis No No Madonna E te mangio Quella Frank Matano questo Solo che con i denti bianchi Perché è della Finlandia Io un gando Sto stonando e gando Cazzo mi frega un gando Io esco dal club e piango Ma mi erano mancati un po' i pack opening Devo essere sincero La stupidità che c'è nei pack opening Che è Insomma È abbastanza sopraffina Sì? A te non ti voglio trovare Nemmeno quando poi Passo vicino alla porta E sbatto il mignoletto Però magari varrei qualcosa vero? Non scommetto di no Agazzi 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 Tutti feo Eh questo pack opening No che figata Lo stiamo col gabbiano Lo voglio rimettere subito Subitissimo proprio Il gabbiano FC Cazzo Direttamente dalle favelas brasiliane Questo qua Quando vedi un video di anima Mentre sta facendo un pack opening Che so fa questo? Secondo voi di che pianeta può essere uno Con questo collo Carnagione di pelle Ecco Questo è la gioca con quell'altro Di prima Avere il guinness Call me on my cell phone Basta sti pacchetti Si urlo ma non ti spaventare Basta Alla ricerca di un if Appena troviamo un if Basta si Chiudiamo il video Basta Perché è impossibile Non voglio spendere i crediti Per sta roba qui Vi ricordo come sempre Che nel primo link in descrizione C'è il sito delle magliette Dove potete trovare Le mie magliette Finalmente E anche le magliette dei mates Allora facciamo così Visto Che forse sono stato tanto Inattivo su EA Forse hanno capito Che non volevo più giocarci No io ci voglio giocare E sono così bravo Che vi regalo due pacchetti Benissimo adesso fammi trovare l'if Signorieri Salve Non vorrei trovare solo Almeno un piccolo if Vai sgancia sgancia subito Ho un manco per le palle Mamma 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 Non mi ha fatto trovare l'if Non mi ha fatto trovare Casemiro A tutta forza Va verso la città Chi se lo ricorda Casemiro Cioè quel cartone Non mi ricordo neanche Film cartone animato fosse Però Mi è rimasto sempre impresso L'avrissuto da piccolissimo Forse era Dumbo Dai E sgancia sto if Che devo andare a registrare Con Stefanino Pem Pem Scusatemi un attimo Ma la squadra della settimana No perché vorrei capire Almeno che sto cercando Quadrado Ok Ah Tiago Silva Uh vasce piano Che ti do un pugno Muoto devi stare Io t'avviso Taglio la gola Io avere pistole Pistola di mano Uuuh Spacca Cioè ci sono anche i bronzo Mi fai trovare almeno il bronzo Voglio essere contento Mi fai trovare almeno il bronzo La lavatrice vive di più Con Karl Strom Fred Amava diventare un pesce Fred Ha esaurito il suo sogno Fred Ora la bocca larga E potrà nuotare Con i suoi fratelli pesci Discarto comunque Penultimo pacchetto Perché poi basta Basta Vedo le tasche Che continuano a diminuire Soldi spendere Via Ronald Mannaggia il cuore Ma il cazzo Mi frega Meglio quello doti Però trovarlo È un'altra questione Perché averlo regalato Va bene Bello Si gioca Si prova Ma io lo voglio Voglio trovare Ultimo pacchetto Ma va vangulo Ma va vangulo pure a voi Ma va vangulo a tutto Va bene Animali animali Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando 50.000 mi piace Se volete La piscina Con le palline dentro Così da lanciarsi Fare le cose Scrivetemi nei commenti Per tutte le prossime serie Quindi la squadra Alfabeto E la squadra Normale Per la ruota Di Gio 1 Visto che mi servono Tutti o due Per il prossimo video Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Spero vi sia piaciuto Non ci si becca Domani con un nuovo video Stay angry Stay animals Are you listening Damn Oh Ciao Ciao Grazie a tutti.